Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca e andiamo a vedere a Vasto dove c'è stata una rapina alla Bipper. I rapinatori sono entrati in azione alle 10 e hanno malmenato un cassiere, si sono fatti aprire la cassaforte fuggendo con il contenuto dunque svaliggiata la filiale Bipper di Vasto in una settimana che è stata caratterizzata nel chiettino da una preoccupante escalation di violenza il servizio di Alfredo Primante. Il colpo è durato pochissimo, i due rapinatori che avevano i volti mascherati hanno intimato al personale di aprire la cassaforte malmenando un cassiere. Hanno poi afferrato il denaro sistemandolo dentro alcuni sacchetti e sono scappati via a piedi lungo via Tobruk prima di salire a bordo di una Fiat Panda. Sono le scene vissute questa mattina a Vasto attorno alle 10 nella filiale della Bipper, svuotata l'intera cassaforte per un colpo evidentemente ben studiato e pianificato. L'ennesimo in questa settimana santa che ha visto la provincia di Chieti protagonista della cronaca regionale per un'improvvisa recrudescenza della criminalità organizzata e non. L'impiegato stava facendo un'operazione tranquilla di versamento, quando arriva questo tipo incappucciato mascherato, mascherato a demone con taglierino puntato e intimando appunto dicendo all'impiegato di dover aprire la cassaforte altrimenti ci avrebbe fatto del male. E poi subito dopo è arrivato un secondo ladro, molto più alto, propusto, che appunto diceva di fare più veloce, di metterci meno tempo e dopo subito hanno colpito l'impiegato con un calcio e un pugno e sono scappati. Sul colpo indaga la polizia di Vasto, sul posto sono arrivati sia il commissario capo Fabio Capaldo che il dispettore Carmine Pontassuglia. Il cassiere della banca, preso a calcio e pugni, è stato trasportato con l'ambulanza al pronto soccorso del Sampiodeppi Traccina di Vasto. Allarme e sicurezza ha anche a Lanciano dopo gli ultimi episodi che sono accaduti in settimana. Il sindaco Mario Pupillo è costantemente aggiornato dalle forze dell'ordine. Sulle vie di accesso alla città c'è un capillare sistema di videosorveglianza. Vediamo. Si torna a parlare di problema sicurezza a Lanciano dopo l'ondata di furti di qualche anno fa. Adesso purtroppo si è passati alle rapine, non solo la città di Lanciano, anche nei comuni limitrofi. Sindaco, qual è il polso della situazione? Il polso della situazione c'è una recrudescenza come spesso può succedere per tutti i fenomeni. Quest'ondata che c'è stata adesso ovviamente preoccupa la popolazione, preoccupa noi sindaci e anche come presidente della provincia. Però devo dire che il contatto con il signor Questore e con la Prefettura è continuo. Anche ieri noi ci siamo sentiti, oltre che per gli auguri di Pasqua, per avere notizie e rassicurazioni. Le forze dell'ordine stanno facendo di tutto. Abbiamo una massima fiducia e un contatto continuo che ovviamente attraverso i vari meccanismi di informazioni e di registrazioni anche con le nostre telecamere, in particolare qui a Lanciano, noi andiamo a collaborare giornalmente. Quindi penso che i cittadini debbano avere massima fiducia nelle istituzioni perché c'è quel lavoro che si vede ma anche quel lavoro nascosto, oscuro di intelligence che ovviamente viene fatto con discrezione. Allarme e sicurezza anche nella città di Chieti. Allora il consigliere Ferrara e l'Avvocato Gallucci vogliono riportare all'attenzione del Consiglio Comunale il problema della microcriminalità. Li ascoltiamo. Io il 16 ottobre dell'anno scorso ho presentato in Consiglio Comunale un ordine del giorno insieme con il consigliere Luigi Febo sulla microcriminalità nella nostra cittadinanza. Quest'ordine del giorno scaturiva da esigenza e da allarme di molti concittadini con cui io come consigliere comunale e medico di famiglia e l'Avvocato Gallucci come rappresentante di un'associazione di società civile l'Agenda d'Abruzzo veniamo a contatto tutti i giorni. La microcriminalità, chiamata anche criminalità predatoria, è caratterizzata da furti, da scippi, da raggiri soprattutto alle persone anziane e indifese e crea oltre che molta paura e molto allarme anche un senso di frustrazione da parte delle persone colpite in quanto quasi sempre il colpevole non viene trovato e perseguito. Io chiedevo con quest'ordine del giorno la creazione di un tavolo di lavoro, un tavolo tecnico a cui facesse parte il sindaco, un assessore competente, almeno un paio di consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, che si coordinasse con le forze dell'ordine e insieme con loro creassero le premesse per la costruzione di antidoti e quindi anticorpi per combattere questa microcriminalità. Avvocato, tornerete allora di nuovo a conferenza stampa oggi per dire che stiamo ancora qui e vogliamo avere risultati. Senz'altro sì, noi vogliamo riportare all'attenzione del Consiglio Comunale questa iniziativa che, ripetiamo, è un'iniziativa tutta finalizzata a migliorare le condizioni di vita nella nostra città e soprattutto chiediamo che questa iniziativa non venga strumentalizzata perché è un'iniziativa di carattere sociale, di carattere bipartisan provane la condizione politica antitetica nella quale siamo collocati io da una parte e il dottor Diego Ferrara dall'altra. Cambiamo argomento adesso a Pineto, ormai è ufficiale, l'introduzione della tassa di soggiorno slitterà al prossimo anno 2019. Decisione confermata anche dal sindaco Robert Verrocchio che spiega anche l'introduzione della Pineto guest card. Vediamo. Sindaco Robert Verrocchio, allora adesso possiamo dire che ci sono anche i crismi dell'ufficialità questa tassa di soggiorno di cui si parla tanto, non solo a Pineto, anche in altri comuni limitrofi almeno a Pineto slitta nel 2019. Sì, di poche ore insomma il Consiglio Comunale che ha approvato la delibera di slittamento nel 2019 perché in realtà era previsto anche nel 2018. La scelta è stata fatta in seguito a un lungo confronto tra l'amministrazione, tra me nello specifico cioè tra il sindaco e gli operatori del settore sul tema dell'introduzione dell'imposta di soggiorno. Devo dire che c'è stato un confronto leale, costruttivo, quindi anche un ringraziamento va agli operatori del settore. Ovviamente all'interno di un percorso richiesto agli operatori e condiviso quindi che prevede un tavolo tecnico un tavolo tecnico che da subito si metterà allo studio dei dati turistici al fine di ponderare bene le tariffe perché le tariffe possono essere differenziate di mese in mese, di tipologia, dell'ospite piuttosto che gruppi, eccetera, all'età. Lo stesso tavolo tecnico che poi nell'ambito diciamo di questa intesa, composta da rappresentanti, dagli operatori che poi avranno a che fare con l'imposta, quindi albergatore, campeggiatore, bagnatore, B&B, affitta casa, eccetera, sarà quel tavolo che poi si confronterà diciamo con l'amministrazione comunale anche per programmare poi i proventi. E' come vero che ci sarà anche una guest card, una carta per il visitatore che può accedere anche ad una scontistica particolare? Sì, questa è una proposta che è arrivata proprio in ambito di questi incontri perché l'idea è di consegnare una card, il titolo scelto appunto è Pineto guest card, a tutti quegli ospiti che saranno, diciamo, che sceglieranno la nostra città e che staranno all'interno di strutture regolarmente classificate ovviamente. Perché specifico regolarmente classificate? Perché nell'ambito dell'intesa, perché la legge già lo provvede, ovviamente verranno mappate anche le case private perché sono centinaia di case che magari sono assegnate alle agenzie e poi legittimamente molti privati affittano per l'estate. Però è giusto che si sia tutti all'interno di un circuito e quindi quella card consentirà al turista di beneficiare di scontistiche piuttosto che di servizio, visite, musei, eccetera. Ovviamente i contenuti di questa card adesso verranno studiati nel corso dei prossimi mesi, però insomma è uno degli obiettivi anche per dare un segno di quel qualcosa in più che la nostra città vorrà offrire con l'introduzione dell'imposta di soggiorno. Ci spostiamo a Pescara adesso perché ha prodata alla firma la Convenzione tra Ferrovie e Comune di Pescara appunto per la riqualificazione della stazione centrale che si inserisce all'interno del progetto complessivo di rigenerazione dell'area di risulta che punta a diventare hub della mobilità sostenibile cittadina. Vediamo. Intermodalità è la parola d'ordine con la quale Ferrovie italiane e Comune di Pescara hanno firmato la Convenzione che avvia il progetto di riqualificazione della stazione di Pescara centrale nell'ambito del disegno complessivo di realizzazione del parco centrale cittadino che prevede parcheggi e anche un tunnel sotterraneo per il passaggio dei mezzi su gomma direttamente collegato ai binari ferroviari. Un hub insomma previsto nel piano della mobilità sostenibile del Comune di Pescara. Il concetto è che l'operazione di riqualificazione dell'area ex di risulta noi piace chiamarla parco centrale passa anche attraverso una valorizzazione dell'immobile della stazione che è uno spazio enorme, grandissimo, frutto del gigantismo degli anni Ottanta e oggi c'è questa necessità da un lato favorire l'intermodalità e poi c'è il tema dell'uso degli spazi lì presenti spazi che sono destinati a servizi primari ma anche a servizi secondari come in molte stazioni italiane a servizio dei viaggiatori ma con la possibilità comunque di destinare una quota di questi spazi anche alla luce delle previsioni urbanistiche di settore all'uso pubblico. Questo naturalmente è subordinato all'avvio dei lavori dell'area di risulta. L'amministrazione adriatica insieme a Ferrovie punta come detto a rendere vitale il gigante oggi abbandonato cioè l'edificio della stazione centrale anche per combattere criminalità e degrado. Giulio Del Vasto, direttore compartimentale di RFI ha annunciato che proprio oggi sono partiti i lavori di rinnovo delle cinque scale mobili all'interno della stazione ma tutti gli spazi vuoti e inutilizzati che oggi offre la stazione pensata negli anni 80 sono di difficile gestione. Secondo l'amministratore delegato di Cento Stazioni Sara Venturoni che nel cognome tradisce le sue origini terramane il progetto può far tornare la stazione al centro della vita cittadina. Con risorse a disposizione, lato rete ferrovia italiana sulla riqualifica degli spazi e sullo sviluppo appunto dell'accessibilità e dei servizi interni alla stazione lato comune sulla rigenerazione dell'area di risulta con la realizzazione di un parco urbano che non ha precedenti in Italia anche dal punto di vista delle dimensioni per la città di Pescara rimettendo a posto tutti i servizi di intermodalità e privilegiando la qualità dello spazio urbano destinata alla pedonalità, alla ciclabilità quindi rendendola un effettivo spazio a servizio della collettività l'intermodalità invece su gomma e questa è una scelta che riscontriamo nelle linee strategiche del piano urbano e della mobilità sostenibile del comune di Pescara dimostra che l'amministrazione intende rivitalizzare la città anche puntando su delle forme di mobilità che sono delle forme di mobilità moderne e a proposito di mobilità e trasporti non riprenderanno dopo le festività pasquali i cantieri su A24 e A25 manca la delibera del Cipe che rifinanzia gli interventi molti di quali per la sicurezza dei viadotti a rischio ci sono 700 posti di lavoro sulle tariffe strada dei parchi propone un allungamento della concessione oggi trentennale per dilazionare gli aumenti vediamo si allungano i tempi ma non per colpa delle ferie pasquali di mezzo di fatti c'è la creazione del nuovo governo ancora da formare e poi e poi ci sono 700 lavoratori ergo 700 posti di lavoro in bilico e l'urgenza di far ripartire i cantieri per la messa in sicurezza di A24 e A25 sta andando avanti di fatti sui tavoli del ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dialogo con strada dei parchi sul nuovo PEF il piano economico finanziario valevole per la crescita delle due autostrade abruzzesi A24 e A25 attualmente sotto la direzione della concessionaria di riferimento del gruppo Toto brutte nuove però sul fronte dei lavori di messa in sicurezza dei viadotti lavori urgenti come ci tiene a precisare Mauro Fabris vicepresidente del consiglio di amministrazione di strada dei parchi gli investimenti sulle due arterie di comunicazione che erano stati previsti inizialmente ammontano a 31,1 miliardi di euro dopo Pasqua la notizia che daremo oggi dopo Pasqua non si riapriranno i cantieri sull'autostrada perché noi aspettavamo questa libera cip per poter rifinanziare i cantieri purtroppo i soldi sono finiti preso 700 operai e dopo Pasqua non tornano i cantieri è ovvio il nuovo PEF e si discute anche di tariffe e quindi vedremo lì che tariffe vengono fuori noi ad esempio proponiamo di allungare la scadenza della concessione di modo che si possa appunto diluire ulteriormente il tema tariffale insomma andiamo a Teramo adesso dove il nuovo vescovo Don Lorenzo Leuzzi ha partecipato per la prima volta alla suggestiva processione della desolata che si tiene ogni anno in città all'alba del venerdì santo i riti pasquali proseguiranno oggi pomeriggio con l'altra attesissima processione quella del Cristo morto il servizio di Tania Bonnici Castelli i riti che si ripetono ogni anno a Teramo per la settimana santa sono famosi e non solo in Abruzzo all'alba di questa mattina ancora una volta tantissimi fedeli preceduti dal nuovo vescovo Lorenzo Leuzzi hanno partecipato alla processione della desolata che rievoca la ricerca della madre angosciata del figlio Gesù condannato a morte la ricerca della Madonna avviene in sette chiese di Teramo che rappresentano anche i sette dolori di Maria addolorata la processione è organizzata dall'arci confraternita dei cinturati ed inizia puntualmente alle 4 di mattina quando è ancora buio il corteo segue la statua linea della Vergine addolorata detta appunto la desolata uno splendido simulacro issato su una portantina linea con un panno nero portato a spalla da donne vestite a lutto la processione del Cristo morto si svolgerà invece nel pomeriggio di oggi venerdì santo ed è curata dall'arci confraternita della Santissima Annunziata dalla cui chiesa la processione parte si tratta di un corteo molto più pomposo e solenne dove sfilano tante statue autorità cittadine e anche figuranti la processione è aperta da un confratello dell'Annunziata incappucciato e vestito di nero che porta una pesante croce di legno dove pende il panno bianco del sudario seguono le statue e linee di San Michele Arcangelo e la fede vestita di bianco raffigurante un giovane che porta una croce e che rivolge lo sguardo al cielo quindi le statue simboli della passione il calvario la corona di spine la colonna della flagellazione la tunica la lancia e il gallo seguono quindi i fedeli e le ultime due statue il Cristo morto e la Madonna addolorata il simulacro del Cristo morto è adagiato su una splendida lettiga una delle bare più importanti d'Abruzzo un baldacchino coperto da veli e stoffe preziose con le aste sorrette da quattro angeli che poggia su un grande tappeto nero ricamato d'oro realizzato nel 1852 per volere della famiglia teramana Bonolis andiamo all'Aquila adesso dove il Consiglio Comunale ha approvato a tarda notte il documento unico di programmazione e bilancio 2018-2020 con l'opposizione della minoranza vediamo il Consiglio Comunale dell'Aquila nella notte ce l'ha fatta ed ha approvato a maggioranza 27-11-9 astenuto il documento unico di programmazione trennale il DUP il primo dell'Arabbiondi è un nuovo strumento di programmazione obbligatorio dal 2016 per tutti gli enti locali l'approvazione ha visto però il voto contrario di tutta l'opposizione eccezione di Lelio De Santis che si è astenuto insieme al DUP c'era il bilancio di previsione 2018-2020 l'opposizione aveva presentato 150 emendamenti il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Tinari ha voluto comunque che l'Aula si esprimesse anche se gli emendamenti avevano ottenuto da parte degli uffici competenti parere di regolarità tecnica e contabile negativo i consiglieri di opposizione hanno motivato il proprio voto contrario dicendo al centro-destra di aver presentato un DUP è troppo generico Carla Cimoroni di Coalizione Sociale ha parlato di un documento sciatto e approssimativo Paolo Romano del Passo Possibile ha evidenziato tante mancanze non è stato dato spazio ha detto ad esempio nemmeno agli ordini del giorno approvati della stessa maggioranza nei mesi scorsi il Sindaco Pierluigi Biondi tornato dalla Russia ha fatto visita al Consiglio Comunale soltanto nel tardo pomeriggio e ha ammesso sicuramente non è il miglior documento di programmazione possibile ma rileggetevi quello dell'anno scorso non c'era nulla il Sindaco ha rimarcato le difficoltà dovute al personale parlando ad esempio di quelli del concorsone Ripam si sarebbe aspettato risultati diversi era necessario trattenerli invece stanno andando via perché non hanno prospettive di assunzioni certe il primo cittadino ha voluto poi rivendicare alcuni risultati raggiunti nel primo anno di epoca biondi l'organizzazione della macchina comunale atto di indirizzo per la nomina dei vertici delle partecipate controllo analogo gli 8 milioni di euro stanziati per la mobilità elettrica questi sono solo alcuni punti e adesso apriamo la pagina dello sport molto ampia perché si apre con la serie B ovviamente con il Pescara che cade anche a Brescia nella partita di ieri sera 2 a 1 per la formazione di Roberto Boscaglia è crisi nerissima per il Delfino con la posizione del tecnico Massimo Epifani che traballa riviviamo la partita nel servizio di Paolo Renzetti sarà una Pasqua amarissima e di passione per il Pescara che crolla anche a Brescia perdendo la 14esima gara della stagione ma soprattutto uno spareggio salvezza importantissimo con il Brescia che con tutti i suoi problemi ha sovrastato soprattutto nella ripresa un Delfino ancora largamente insufficiente situazione che si fa delicatissima in casa abruzzese con il tecnico Epifani che ha raccolto appena un punto nella sua gestione di 5 gare cambia ancora formazione Epifani riproponendo in difesa Gravion a centrocampo Valzania mentre in attacco al fianco di Mancuso c'è Bunino la gara del Rigamonti vede il Brescia fare la partita con il Pescara che però al 24esimo approfitta di una clamorosa scivolata in area di Somma permettendo a Bunino di crossare il centro area per Coulibaly che praticamente porta vuoto mette alle spalle dell'incolpevole Minelli il vantaggio permette alla formazione Bianca-Azzura di amministrare un po' la gara per qualche minuto ma solo purtroppo fino al 31esimo quando Torregrossa in area pescarese fa tutto bene controllando la sfera e poi girando in porta con Fiorillo costretto a raccogliere il pallone nel sacco tutto da rifare per i ragazzi di Epifani che però non si chiudono e anzi ribattono colpo sul colpo rischiando però al 44esimo quando Torregrossa da buona posizione impegna a terra Fiorillo che para il Delfino chiude il primo tempo in avanti ma le due squadre rientrano negli spogliatori sul risultato di 1-1 al quarto d'ora è proprio il mio entrato Spalek a chiamare Fiorillo ad una parata difficoltosa in calcio d'angolo la pressione dei Lombardi è ad intermittenza con Boscaglia che manda in campo anche Curcio per Longhi i Biancazzurri tengono bottano riuscendo però a pungere e subendo la stradipante forza dei Lombardi che alla 21esimo arrivano ad un passo dal raddoppio con Fiorillo che dice no a Caracciolo salvando la sua porta però solo per qualche attimo visto che poco dopo è l'airone di testa a saltare quasi indisturbato mettendo il pallone in rete per il 2-1 Bresciano il Pescara vede le streghe entrano in capo Cocco e Carraro ma le cose non cambiano però per la formazione adriatica che rischia di crollare si salva prima al 28esimo con Fiorillo che dice no a Curcio su punizione poi alla mezz'ora con il portiere pescarese che dice no questa volta a Torregrossa il portiere Biancazzurro con le sue parate tiene in partita gli abruzzesi che dopo aver rischiato il tracollo cercano di respirare la squadra del presidente Sebastiani frastornata va ancora in partita grazie ai colossali errori sotto rete dei padroni di casa nell'ultimo spicchio di partita con Baez al posto di Balzania prova il tutto per tutto sfiorando con Cocco al 94esimo il gol del 2-2 ma il giocatore sardo in area bresciana non inquadra lo specchio della porta e l'immagine del Pescara di oggi fragile e quasi impotente di fronte agli avversari questa squadra ha perso sicurezza nelle ultime partite lo aveva già fatto anche durante la gestione Zeman come se ne può uscire considerando anche un calendario che non è amico sabato c'è il Palermo poi c'è il Bari tu hai detto il problema non è Epifani il problema è questa squadra che non riesce ad imporsi sul piano del gioco anche al cospetto di avversari che sarebbero alla sua portata come secondo te si può uscire da questa situazione dando di più cercando di avere più coraggio che in questo momento manca di essere attenti sulle palle quando ci si difende stare attenti alle palle dove non devi prendere gol perché se regali magari qualche situazione agli avversari in questo momento che mentalmente sia un pochettino fragile decale tutto se ne esce lavorando cercando di tenere testa alta anche se veniamo da un momento negativo però che dobbiamo fare dobbiamo lavorare nel calcio si lavora e cercare di tirarsi fuori il prima possibile ai tifosi cosa ti senti di dire perché a fine partita questi tifosi che stasera erano a Brescia hanno chiamato la squadra però sono oggettivamente ed obiettivamente sconcertati anche un po' i tifosi ai tifosi li possiamo solo ringraziare noi in questo momento siamo in grosso debito con loro perché i risultati dicono questo sotto l'aspetto dell'impegno ragazzi non gli posso dire niente sotto l'aspetto dei risultati siamo in grosso debito con i tifosi e quindi ci sentiamo in difetto con loro e questo ci deve aiutare a tirar fuori quel qualcosa in più che in questo momento questa squadra manca e in serie C invece il Teramo scende in campo domani pomeriggio alle 14.30 contro il Gubbio partita in trasferta ma da cui potrebbe passare la salvezza Out Bifulco e Rossi il difensore esterno arrivato a gennaio per le ultimissime andiamo proprio a Teramo da Ania Cantagalli Teramo domani a Gubbio in uno scontro salvezza fondamentale per il cammino dei Biancorossi squadra dei Paladini che invece affronterà una formazione reduce da un momento difficile ma è chiaro che in caso di Vittoria Speranza e compagni compierebbero un passo probabilmente decisivo in ottica salvezza per la permanenza nella categoria senza passare dai play-out ma ascoltiamo Paladini ma sicuramente cercheremo di fare la partita perfetta non sarà una partita facile perché incontriamo una squadra che ha bisogno di punti e quindi dovremmo stare molto attenti dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso nelle ultime 5-6 partite cercando di di continuare su questo trend qui quindi l'obiettivo è quello lì ma sicuramente vincere sarebbe importante però sarà semplice l'obiettivo è quello di cercare di fare un'ottima partita cercando di non concedere nulla agli avversari e se è possibile di vincerla con l'equilibrio giusto dal fronte formazione si va verso la conferma dell'undice che ha vinto domenica scorsa qui al Bonolis contro la Triestina c'è da sostituire Sales in casa Teramo Varas e Pietrantonio sono in lizza per una maglia in attacco invece dovrebbero essere confermati Bacio Terracino Gondò e San Domenico posti blindati anche in difesa e lo stesso dovrebbe essere anche a centrocampo non ci sarà neanche Tulli squalificato per due giornate dall'altra parte assenza importante nel gubbio perché mancherà il bomber Marchi autore finora di 13 reti squalificato anche di Erna il difensore centrale ma ovviamente la squadra di Sandriani cerca anch'essa punti fondamentali per la salvezza ma sicuramente Marchi è un giocatore ha fatto 13 golle quindi un giocatore importante per la categoria non solo per il gubbio ma anche per la categoria però anche per noi Sales era un giocatore che stava facendo veramente bene però abbiamo altri giocatori ma uno dei due sarà il sostituto di Sales ma noi dobbiamo continuare su questo come dicevo prima su questa strada e quindi cercare di avere questo entusiasmo questa voglia di fare risultati a tutti i costi e poi vedremo quello che accadrà sicuramente loro sanno di avere una partita importante non perché giocano contro il Teramo ma perché è una partita per loro che potrebbe essere quella del rilancio mi aspetto una partita difficile una partita contro una squadra che ha bisogno di punti come dal Tonde ne abbiamo bisogno noi e quindi sarà una partita difficile ripeto tutte le partite vanno giocate questa forse in questo momento la gara più difficile che abbiamo e a proposito di Teramo una notizia di mercato perché la società bianco-rossa ha ingaggiato l'estremo difensore classe 1994 Matteo Ricci ex Pontedera e Olbia attualmente svincolato questo perché l'infortunio corso a Marino Bifulco potrebbe essere più grave del previsto e allora il sodalizio Teramano mette sotto contratto quello che è il quarto portiere stagionale dopo Bifulco appunto arrivato a gennaio Calore che è attualmente il titolare e che anche domani pomeriggio prenderà sarà in campo dal primo minuto Lewandowski che è di proprietà del Teramo ma a gennaio ha lasciato il Teramo per Monopoli e appunto Ricci Matteo Ricci l'ultimo arrivato scendiamo in serie D adesso ieri giornata prepasquale per le nostre abruzzesi partiamo il nostro giro dai campi dal Francavilla che sotto di due reti ferma la capolista Matelica e poi ci andiamo a vedere il ritorno al successo della Vastese in casa contro il Fabriano Cerreto il Francavilla pareggia in rimonta e rallenta la marcia della capolista Matelica che ora sente il fiatto sul collo della Vispesaro che si porta solo i due punti una grande ripresa per la squadra di Iervese che tiene in vita le speranze di quinto posto e si conferma squadra da trasferta 26 punti su 41 sono arrivati lontano dal Valle Anzuca dopo la maxi squalifica torna Momo Fofanà subito titolare al fianco di Manegas Fiore nel trio di difesa Molenda tutta fascia nel 3-5-2 di Iervese squalificato Di Cecco ancora out tra gli altri a mente di Pietrantonio nel Matelica c'è a Rapi al posto dello squalificato Brentan in tribuna Gabbianelli sono Tonelli da Polonia Angelilli a supportare il bomber Magrassi primo tempo che scivola via gradevole subito una punizione di Palumbo al primo minuto poi è il Matelica ad alzare i giri del motore con Angelilli al quinto e quindi sempre con Angelilli sul cross millimetrico di Malago ma all'esterno Matelice si spreca al quarto d'ora si sblocca la situazione Magrassi ruba palla a Romeo e viene atterrato per Pelagatti di Livorno calcio di punizione con cartellino giallo per il difensore che rischia anche una punizione più severa la successiva esecuzione dello specialista lo sicco è perfetta e il Matelica va in vantaggio il Francavilla accusa il colpo per alcuni minuti così la squadra di Iervese si rifa viva intorno alla mezz'ora con una bella azione personale di Molenda che dal limite fa partire un fendente che impegna severamente De Maglia il Francavilla soffre la pressione matericese e perde diversi palloni in uscita come accade al 37esimo quando Malago sorprende Mele e serve Angelilli che sfiora il palo passano due minuti Fargione si supera su Tonelli imbeccato da lo sicco al 42esimo Fofanafa sponda per Palumbo che calcia dalla sua zola preferita ma centralmente la solo di Dappolonia chiude il primo tempo col vantaggio di misura dei padroni di casa avvio di ripresa pirotecnico al secondo Palumbo da piazzato lambisce il palo alla destra di De Maglia sul capovolgimento di fronte Molenda terra Dappolonia appena dentro l'area calcio di rigore che lo stesso Dappolonia trasforma spiazzando Fargione sembra chiusa ma al nono Banegas vede premio il movimento di Fofanafa che dimezza prontamente il distacco 2 a 1 il gol cambia l'inerzia del match positivo nel Villa l'inserimento di Procida che propizia la punizione con cui al 23esimo Banegas scheggia il palo il pareggio però è solo rimandato di 3 minuti quando la punizione di Palumbo fa fuori tutta la difesa di casa milizie rompe e in sacca il 2 a 2 che gela il pubblico di casa il Matelica reagisce a sua volta davvero clamoroso il palo di Malago da corta distanza poi la palla attraversa tutto lo specchio della porta la capitalista spinge a testa bassa per il nuovo vantaggio ma il Villa non sta a guardare De Maglia disinnesca il sinistro di Palumbo e sul secondo successivo corner Romeo va vicinissimo al clamoroso 2 a 3 finale concitato col Matelica che ha la palla della vittoria nel sesto e ultimo minuto di recupero ma Fargione dice no a Magrassi finale 2 a 2 e ora se il Villa vorrà centrare il quinto posto dovrà migliorare tra le Muramiche a cominciare dal prossimo match con la Iesina la vastese torna a vincere lo fa battendo 3 a 1 il Fabriano Cerreto in un match fondamentale per rimanere in zona playoff Colavitto ritrova Amelio e Leonetti rispetto al match perso contro l'Agnonese varando il consueto 4-3-3 tra l'altro schieramento speculare da parte del Fabriano a caccia disperata di punti per evitare la retrocessione diretta la vastese ha un buon approccio al match ma la prima occasione è per gli ospiti dagli sviluppi di un angolo Zuppardo prova il colpo di tacco sul primo palo ma viene murato in maniera forse provvidenziale da Tedesco dagli sviluppi del successivo corner la vastese riesce a riconquistare il pallone con Tedesco che arriva fin dentro l'area non trovando però poi la porta due minuti più tardi De Feo vorrebbe il calcio di rigore per un presunto tocco di mano di un avversario ma il direttore di gara lascia proseguire è ancora Tedesco un minuto più tardi a raccogliere un cross di cane non riuscendo però ad inquadrare la porta il gioco si ferma poi per un paio di minuti per gli infortuni di De Chiara e Fumanti con quest'ultimo che lascia il campo in barella e sarà accompagnato in ospedale per accertamenti dovranno lasciare il campo entrambi a favore di Casciani e Tafani la vastese tira un po' il fiato e poi colpisce alla mezz'ora Fiore è bravo a raccogliere una corta respinta di Spitoni dopo un tentativo di Teesco e portare avanti i suoi al 39esimo ancora padrone di casa una discesa sulla destra di cane e con Tedesco che sul primo palo non riesce ad impattare bene con il pallone nel finale pressing del Fabriano a caccia del pareggio Zuppardo vede il movimento di Cusimano ma Camerlengo si oppone al diagonale del numero 10 ospite la ripresa si apre con la pressione del Fabriano che costringe la vastese nella propria metà campo senza però creare grossi pericoli l'occasione arriva però prima del quarto d'ora quando il direttore di gara giudica falloso un contatto in area tra Marchiondi entrato da qualche minuto e a meglio tra la disperazione del difensore e le proteste dei suoi compagni Zuppardo indomina l'angolo con Camerlengo che non arriva a fermare il tiro dal dischetto che riporta in parità agli ospiti la reazione della vastese è in un tiro a giro di fiore su cui Spitoni però si fa trovare pronto al ventunesimo l'estremo marchigiano non ha invece un'ottima uscita dagli sviluppi di una punizione con Stivaletta murato quando il gol sembrava ormai cosa fatta la vastese rischia grosso al ventesiesimo quando Camerlengo ferma in qualche modo un tentativo ravvicinato di Bogio con fischi che si levano dalla curva d'Avalos per cercare di spronare gli aragonesi la gara però svolta in meglio per la vastese di lì a poco dagli sviluppi di un angolo De Feo riesce a girare in acrobazia le spalle di Monti riportando avanti gli aragonesi qualche istante dopo Forò rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in dieci al trentaduesimo della ripresa e Leonetti a mandare i titoli di coda il bomber della vastese pronto sul secondo palo a raccogliere un cross dalla destra e firmare il tris per i padroni di casa per la formazione di Colavitto matura così un successo che dà anche morale mentre il Fabriano dovrà cercare altrove i punti necessari per salvarsi ed è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale vi ricordo gli appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23 grazie per essere stati con noi buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.